Il treno su questo treno, il servizio di ristorante, per titolare l'accesso al treno, iniziamo viaggiatori e risporsi lungo il merce a pieve, in base alla posizione della carrozza relativa al livello di servizio acquistato, con la sensazione termine, per l'evento Treni Rosa, offerto ovviamente per la prevenzione, per il supporto per tutte le donne nei treni. Testimonia, l'abbiamo andata a Lancero, che è sempre presente a questi atti di solidarietà. Ciao Anna, è sempre un piacere vederti soprattutto, oltre cantare, che complimenti, li faccio, ma soprattutto sei sempre in prima fila, questi grandissimi eventi di solidarietà, e in questo caso ci troviamo per freccia rossa, tutela, diritti, rosa e salute. Due parole? Due parole, la prevenzione è importante, bisogna parlare un po' di più, bisogna essere sempre presente. Ecco, qua abbiamo visto, abbiamo parlato con i responsabili che ci hanno detto la tutela viene accorta sul treno, e questa è una cosa importante, io ti ringrazio, e mandiamo un spostato a tutti, ciao, grazie Anna. Grazie.